Non si fermano le iniziative dell'amministrazione comunale di Porto Escuso finalizzate a contrastare il progetto della SNAM che prevede la sistemazione di una supergasiera da 140.000 metri cubi sulla banchina est del porto industriale. Il sindaco Ignazio Azzori stamane ha assicurato che il comune di Porto Escuso darà pieno sostegno al ricorso al Consiglio di Stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Giunta regionale Cristian Solinas contro il DPCM Energia. A breve a Porto Escuso verrà inoltre messa in atto una nuova iniziativa pubblica per ribadire le ragioni del no alla supergasiera. Ignazio Azzori ha confermato ancora una volta che l'amministrazione comunale di Porto Escuso non è contraria al gas ma alle dimensioni della gasiera previste dal DPCM che vanno ben al di là delle necessità del polo industriale e della comunità locale. Per consentire all'Euralumina di portare avanti il suo progetto di rilancio produttivo a concluso Ignazio Azzori sarebbe sufficiente un piccolo deposito costiero come peraltro era inizialmente previsto.